Oggi andiamo a fare la trippa coi fagioli. Questa ricetta è di Rosalba che è la mamma di Alessandra. Ora questi sono tutti nomi che per voi non voglio dire niente, ma per noi sono importanti, ma soprattutto questa è una ricetta molto buona. Cominciamo. Mettiamo dell'olio in una bella casseruola, accendiamo il fuoco e nel frattempo andiamo a tritare una cipolla. Ora vado ad aggiungere un peperoncino, un po' di menta secca, ci vorrebbe la mentuccia, non ce l'avevo, ho questa menta che è spettacolare e metto questa, così per l'inizio diciamo 5 foglioline vanno più che bene. Mentre la cipolla sta stufando andiamo a tagliare la pancetta e la vado ad aggiungere nella casseruola. Quando la pancetta comincia a diventare trasparente, lo vedete è quasi traslucida, è il momento in cui si va ad aggiungere la trippa. Trippa già tagliata, precotta ovviamente, e facciamo insaporire bene. Ora si vanno a preparare i pomodori, i preparare, in realtà sono pomodori pelati che vado a frullare. Se non volete utilizzare i pomodori pelati, della salsa di pomodoro va benissimo. E vado ad aggiungere il pomodoro. Ora si vanno ad aggiungere i fagioli. Se avete la possibilità, se avete la voglia di cuocerli voi, teneteli leggermente un pochino più croccanti. Perché? Perché l'ultima mezz'ora di cottura la faranno qui, però ovviamente se utilizzate quelli comprati non vi preoccupate. Andiamo a mettere tutti i fagioli dentro. Si va a salare, senza esagerare, perché il sugo poi si stringerà, c'è anche la pancetta, poi casomai si corregge all'ultimo momento. Se volete, ma è una cosa assolutamente facoltativa, anche una gelatina di pepe. Fuoco medio-basso, semi coperto. Il tempo di cottura sarà circa mezz'ora, ma l'indicatore reale è il sugo. Quando lo vedete, vedrete che è bello ristretto, praticamente è pronto. La trippa è praticamente pronta. Vedete questa quantità di sugo? Potete farla stringere ancora un altro pochino, ma vi posso assicurare che è perfetto per la scarpetta, quindi io vi consiglio di non farla tirare troppo. L'ultima cosa che andiamo ad aggiungere sono altre foglioline di menta secca. Le mettiamo proprio all'ultimo momento, così, giriamo e spengiamo il fuoco. E ora la possiamo andare a servire. Il vero segreto di questa trippa è lasciarla qui e mangiarla domani. Riscaldata, fenomenale. La temperatura fusione è dire poco. Fantastica. Questa serve. Neanche reposate. Una pagnottona di pane. Buon appetito. Grazie a tutti.